bella a tutti ragazzi bentornati sul canale di genetichi dna e in questo nuovo gameplay di splinter style blacklist un buon natale a tutti da genetichi dna allora prima di iniziare voglio farvi vedere che ho potenziato il laboratorio di charlie mi ha aggiunto appunto questi monitor sulla parete e quant'altro con lui non ci voglio parlare e niente vi chiedo scusa per il ritardo questo doveva uscire già due settimane fa ma come sapete ho cambiato anche ho cambiato anche la scheda di acquisizione quindi adesso sto registrando con quello nuovo quindi vediamo speriamo che allora vediamo un po struttura di detenzione guantanamo bike cuba campagna solitaria ma si va via il briefing così veloce 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 che succede la cia appena portato resa nuri a guantanamo lo stanno interrogando sul ruolo dell'irana nella blacklist nuri adatti sulla blacklist dobbiamo scoprire a che gioco sta tocando ora gioca al carcerato che baratta informazioni per uno sconto di pena se devi dire qualcosa dillo ok grim aveva ragione hai commesso un errore sei stato avventato e ora dobbiamo metterci una pezza ehi ma non avevamo escluso l'iran non importa se le informazioni sono giuste se nuri ganda gli stati uniti finiranno in guerra con nemico sbagliato esatto e chi vorrebbe una cosa simile forse lui il buracchinaio di bergassem ha un presentimento non possiamo scoprirlo abbiamo fregato la cia a bengasi e chicago quindi ci hanno tagliato fuori è vero non hai più contatti nei servizi segreti ho sempre te cosa vorrebbe dire ok iniziamo con la missione vai volete coordinarvi con grim e charlie come può aiutarvi charlie non può tu aiuterai lui irrompiamo irrompere a guantanamo ci serve un rapporto sui protocolli di sicurezza in modo che charlie li possa aggirare non è così facile servono chiavi e autorizzazioni facile posso falsificarle è una follia non per me tutti gli uomini là dentro sono dei nostri quindi grim vuole solo tecniche non letali mp gasso porifero e fumogeni li metteranno fuori gioco senza fare danni permanenti ok grazie alla fumogena si ok praticamente me li seleziona già lui quelli che devo usare va 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 ok dai c'è tutto via 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 intanto già ho già messo il mio e via strutture di disensione guantanamo bei qui beh infiltrati nella prigione di guantanamo e scopri perchè tre zanuri sta passando informazioni false alla cia infiltrati e infiltrati e prigione guantanamo e merda no 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 per niente cioè praticamente mi passo il giorno di natale in prigione perfetto yeah oh che figata e mettono anche il paro orecchie ascolta la musica in ginocchio oh cazzo alzati ora sei un prigioniero del campo 7 nel centro di detenzione di guantanamo bei annuisci se mi hai capito alzati ora detenuto ora sei sotto il mio controllo e obbedirai a tutte le istruzioni che ti darò annuisci se hai capito non credevo che ce l'avresti fatta già per tua fortuna ho ancora dei permessi della cia e qualche amico piano briggs serve a convincere le telecamere ok oh cazzo dove devo andare buongiorno salve tutto bene l'equipaggiamento è nell'ufficio dopo l'area ricreativa staccherò la corrente e ti darò un po' di buio un po' di buio perfetto buongiorno eh cagnolino ciao sono a cena dovresti avere un po' di tempo il prigioniero lì se la vede bene col cane lì di fuori madonna ok vabbè se la farai cosa te lo fa credere devi farcela io posso ah beh giorno stu facendo una gita turistica non si preoccupa tutta ok ci vediamo dall'altra parte aspetta trova una via d'uscita sei fatto ingabbiare qualcosa di simile io sono qui per sadik sadik non mi ha rinchiuso qui no ma sei dietro le sbarre e secondo me il motivo è il tuo il prossimo attacco blacklist parla mi spiace adesso parlo solo con i miei amichetti della CIA lei non con te no no parlerai puoi solo scegliere quanto farà male no 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 basta basta ti prego sadik mi ha mandato lui per per depistarli per farli per farli attaccare Teheran ti ho chiesto della blacklist vai al tutto voleva dirottare una nave e io gli ho fornito agli uomini che servivano per guidarla dove io non lo so non lo so non so nient'altro dell'attacco se non c'è l'Iran dietro la blacklist allora per chi lavora sadik non ho nient'altro da dirti ehi ma che tu sei pazzo non verrà nessuno ti prego non farlo ci tieni alle tue mani voglio i nomi ti dirò i nomi ti dirò i nomi Sam Fisher Anna Grinstottier Isaac Briggs Charlie Cole la tua squadra l'aereo forse Ecelon lui sa tutto quanto puoi trovare sadik è proprio dietro di te sadik saprà che ho parlato la morte per mano sua non sarà rapida io non ho altre informazioni uccidimi e basta ti prego merito un po' di pietà ma anche no ti lascio nelle mani di sadik ci pensa lui a ucciderti oh oh ok 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 aspettate un attimo eh oh merda ok oh merda cazzo piano pianino eh 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 fico non c'ho niente oh 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 porca puttana oh merda oh merda oh merda oh merda oh merda oh merda oh 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 ok forse è meglio a batterne uno a meno è fuori dalle balle c'è nessuno c'è nessuno la posta lo vedo cazzo vabbè speriamo che non c'è qualcuno oh 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 cazzo zito apporori eh ma qua ci sono i cani oh cazzo no i baubau no io odio i baubau paura momento di panico levati quel cazzo di raggiottino ok ok oh 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 via 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 urca troia via 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 dai cazzo giri e la flash drive può anche aspettare adesso non so se riesco a prenderla però dopo ci provo dov'è? vai lì cazzo cazzo uuuuuh c'è ora ma la flash drive dov'è? ah ma è laggiù vabbè che se ne frega per il massimo me lo rifaccio io con calma no ma la eh merda terza giù di qua buonanotte amico oh momento di panico e paura uh momento di panico e paura Ti conviene stare giù Merda 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 Oh oh E vai Ho trovato il mio equipaggiamento Perfetto Sì ok ho dovuto Sì ok però Dai 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 Ci vorrà poco prima che trovino ciò che resta di muri Sam se è necessario la palestra a dardi non letali Se va tutto bene non servirà Lo so che la palestra C'è i dardi non letali Ricorda Sam le guardie non sono ossili Se ci saranno morti dovrò annullare la missione Stai calma Stai calma bambina Vediamo un po' qua Ok Qua non c'è niente Ok Penso che da qua sono arrivato Vediamo un po' di qua Cosa che Aspetta Vediamo la luce Tac Ma che sfonda la porta Guarda sotto Ok Tutututututututututu Tutututututututu Non devi assolutamente farti vedere Sam Fatti scoprire e chiameranno le truppe corazzate e le unità cinofile Op Pala pola 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 Pala plala allora tu amico vieni con me e buonanotte anche te ci 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 nanna fai la nanna bel bambino fai la nanna piccolino non è successo niente porca troia enorme stronzo a volte non me lo prendo c'è un piccolo bug o cosa ok vediamo se riesco a recuperare c'è qualcosa facciamo un tutto 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 cazzo cazzo non dici che mi vedono da qua su ma aspettiamo che se ne vanno ma che è meglio dai levatevi dalle palle voilà ci dovrebbe essere anche l'altro stronzone da qualche parte che però non so dove sia dovrebbe essere di qua però cazzo sto finendo tutti i cosi merda oh oh buonanotte amico anche tu buonanotte merda merda perché cazzo 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 Caccio, caccio. Ciao, ciao. Cazzarola. Oh, bella missione Stent ci voleva, ragazzi. Però adesso non vedo gli altri due cazzo sono. Bello rischio. Ma se faccio una figura del cazzo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cazzo, cazzo, cazzo. Madonna, quello corazzato. Merda. Eh, quello lì è corazzato, ci posso fare un cazzo. Ah, aiuto. Merda. Vado di qua. No. Cazzo. Ok, ok, sei andato. Via, 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 via. Cazzo. Eh, bravo. Era ora che ti levavi dal cazzo, stronzo. Uh, ok, qua c'è un mio equipaggiamento. Dai che ci ricarichiamo un po'. Verso il campo X-Ray, sei quasi al sicuro. Sì, quasi. E questo è il problema. Oh, guardate lì, un cecchino. Tu sei un cecchino. Dovresti essere rapido. Silenzioso. Addio cecchino. Buonanotte, amici. Oh, cazzo. È stata una stronzata, mi sa. Perché c'è il cecchino là. Qui non c'è niente, procedo. Ma dici che lo riesco a prendere da lì. Piè. No, eh. Ok, l'ho sprecato. Porca troia. Ok, andiamo giù. Dai, prima che... Prima che... Oh, 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 oh. Dai. Buonanotte. Cazzo, quello cosa fa lì? Sam, vedo un possibile approccio con un cavo. È sicuramente meglio che schivare i cani da guardia. Ok, dov'è il cavo? Ah, è lì. Sì, ok. Come cazzo ci vado a prendere il cavo? Bella idea. Come cazzo. Cos'è la voce there? Sì, sì. È venire... Ho sprecato uno, maledizione. Ma dove cazzo sono? Oh mio Dio. Sono al campo X-Ray. Bene, passaci attraverso. Raggiungerai la riva e incontrerai il Briggs. Ok, non c'è chi ne è andato. Merda. Secondo me è stato in allarme un cazzo di cane. Dove è? Oh. Che cazzo vuole quel cane di merda? Con merda. Ok. E dove sei il cazzo di cane? Non vedo il cane, porca troia. Non vedo il cane, porca troia. Tu non hai un altro da fare che guardare di qua, cazzo. Guarda dall'altra parte, no? Eccolo lì, il cazzo di cane. Eccolo lì, il cazzo di cane. Oh e buonanotte anche a te stronzola ok siamo scappati da guantanamo e vai missione molto molto stealth dov'è Briggs? è la è Briggs arrivo Briggs fermati eccomi eccomi poi vai aspetta ci sono pattuglie in giro Grimm ci darà il via libera è andata bene? Nuri era lì per Sadik era un diversivo per gli USA mentre lui dirotta una nave il prossimo attacco Blacklist benzina americana per forza c'è un altro problema c'è un altro problema Sadik ha un secondo bersaglio noi oh cazzo senti per prima non avrei dovuto tutti fanno errori ma quanti entrano ed escono da Guantanamo? e nessuno lo saprà mai ti abituerai sì ma non siamo ancora fuori Briggs c'è un lasso di tempo tra le pattuglie uno o mai più ricevuto perfetto strutture di detenzione fantasma 13 ok e vai un trofeo un filtrazione interrogatorio ok a posto sì ok qua ci sono i soliti punteggi che mi piace le statistiche sì dai ho fatto anche la pantera dai vedi 7 minuti su 55 dai direi che direi che è buono è buono bonifico ricevuto oh la la oh la la quanta roba ok riusciamo a rilassarci prima della prossima ma se sei appena stato in spiaggia a Cuba e ora sei in Messico venire mitragliato da una battuglia non è il massimo del relax dimmi che hai un aggiornamento sulla nave dirottata dagli ingegneri il personale dell'aeroporto se ne è andato 5 minuti fa e senza avvisare pare che ci aspetti un altro sconto abbiamo provato a usare il drone di sorveglianza ma qualcuno disturba il segnale dobbiamo decollare all'istante oh merda ok abbiamo soldati la vedo male la vedo male porca pittura ok voi tre difendete qui e fornite fuoco di soppressione Grim non possiamo decollare se siamo sotto attacco preparo tutto brava vai facciamo così allora ora ulii Sì. Oh che cazzo dai dormite un po' strontetti. Vedo movimento dietro l'hangar. Beh. Ok. Sì ok ma... Oddio. Sai. Oh oh. Motori attivi. Merda. Merda. Aiuto. Uomo a terra. Hanno colpito Ollie. Sì. Kyle. Stabilizzalo. Merda non riesco a... Dai. Prendilo. 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 Inserito. Oh. Eh la madonna ma che cazzo di bordello era sto... St'imboscata maledetta. Così improvvisata non so io. Oh cazzo. Via. Via. Grim. Dobbiamo far decollare il paladin. Liberiamo la pista. Sam. Ascolta. Ho sbloccato il drone. Prendilo in slave. Sadik vorrà prendere l'aereo tutto intero. L'unico modo per tenersi a terra è colpire i motori. Ma... ricevuto. In slave sul mio Opsat. Oddio. Cavolo si fa ingrandire. Vai su. Ah. I nemici sulla sinistra del aereo. Eh muori. Dove siete? Pulito. Boom. Veicolo nemico eliminato. Dai paladin muoviti. Briggs attenzione. Dei nemici sulla destra. Dove siete? Dove siete? Venite qua. Sono troppo lontani merdaccia. Dai avvicinatevi un po'. Eccoli. Uccisione confermata. Centro perfetto. Yeah. Boom. Da buttare. Briggs. Non sono finiti. Stanno arrivando altri veicoli. Ehehehe. Wow. Boom. Preso. Da dove? Da dove? Da dove? Da dove? Da dove? Da dove? Ok. Questa. Missione improvvisa. Non so io eh. sì ok non ho trovato bonus in questa missione però vabbè sì qui mi sa che fantasma ciao ciao era tutto tutto assalto infatti ma fa niente dai ci vuole un po' di assalto boom eh direi che e vai un po' di soldi in più così posso potenziare ho trovato qualcosa? le petroliere nel golfo la guardia costiera ha sostituito un equipaggio per intossicazione alimentare Charlie? questa non vorrete perderla mi sono fatto aiutare dai ragazzi di Fort Mead ho tracciato gli IP ai quali erano taggati quelli di Philadelphia state vedendo? il cervello del server delle operazioni USA degli ingegneri ID, ID, indirizzi sono dettagli che vuoi dire? è soltanto rumore abbiamo già esaminato migliaia di corrispondenze simili è lo stile degli ingegneri e non ci dice gli obiettivi di Sadik con la blacklist non voleva il ritiro delle truppe statunitensi? non succederà mai e Sadik lo sa Briggs ha ragione stiamo sbagliando direzione se Sadik non lavora per l'Iran e non gli importa del ritiro delle truppe? allora qual è il suo obiettivo? Charlie taglia la connessione tutti i dati sono sospetti lavora con Briggs concentrati sulla petroliera l'equipaggio sostitutivo è la pista giusta d'accordo Griggs, dai tutti i dati in pasto al GMS proviamo a capire cosa vuole Sadik fermare questo attacco non c'è di Cineralbero obiettivo di Sadik ma catturare uno dei suoi uomini fiducia sì molto astuto sono dentro hanno abboccato quel ragazzo può tagliare quello che vuole ma da 5 minuti il paladin è mio bene tra quanto l'arrivo della nave rincontro con Echo tra due ore impatto con il bersaglio tra quattro stato con timidà di governo allerta gialla per il bunker F Washington ha già mandato i dati d'emergenza all'NSA, al comando e allo stato bene mi serve ancora una spinta real via con benzina fate voglio l'intera costa in fianco ma iniziate con l'aereo di Fischer visto che è curioso di sapere cosa mi viene è il momento oh merda la prossima missione sarà tostissima porca vacca vabbè ok ragazzi questa missione è finita qui e vi aspetto ai prossimi gameplay ciao a tutti da GeneticDNA e buone feste ancora grazie a tutti Grazie a tutti.